Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art, siamo ancora una volta su Wreckfest, stiamo per affrontare la Sandpit Smackfest Allora, qui possiamo usare una nuova auto che ho comprato, che è una Hotshot, la Hotshot è un'auto del gruppo B, però l'ho depotenziata in modo tale da farla arrivare a gruppo C Ossia gli ho aggiunto tutte queste Ambaradan, quindi i paraurti e tutto quanto, andiamo direttamente in pista e vediamo come si comporta Savolax Sandpit E qui causare almeno 1000 danni, no, lasciamo i danni normali ragazzi, perché sennò diventa un macello E andiamo in pista, eccoci, eccoci Katsuti e sportiveggianti, le regolazioni non vanno bene, mettiamone un po' più morbida, il resto va bene Andiamo, andiamo, partiamo in undicesima posizione, guarda la sportiveggianza E spam, iniziamo Occhio, tornante Mamma mia, 1000 danni qua Come cazzo si fa a causare 1000 danni In una gara Tra l'altro in una gara singola Quindi manca una serie di gare Mi scusi lei con la rocket, faccia poco lo spiritoso E' una rocket, si Faccia poco lo spiritoso e venga qui Venga qui Scusi Permette? Salve, tutto a posto? E E E E E Accidenti, quasi, quasi C'eravamo, c'eravamo Ultimo giro, 1000 danni non li causeremo mai Fa niente Cioè, bisogna farsi una gara Giusto per causare i danni Aio Paraurti è andato Però noi Ce ne frega poco Cerchiamo di Fare la gara E Sbam Quanti danni? 500 No, no Non è cosa Non è cosa Attenzione Che arriva cannonball Palla di cannone E Bam No Mi scusi Ma le sembra il caso? Eh Faccia poco lo spiritoso E' l'ultimo giro E devo andare a vincere Benissimo, benissimo ragazzi Che poi in realtà conviene fare Prima la gara Per fare, diciamo La Prima il campionato per fare i danni Per fare gli obiettivi E poi fare quello per Rifarlo, diciamo Per fare La posizione buona Vabbè Non fa niente Per fare i punti, insomma Andiamo alla prossima gara Dovrebbero essere tutti al Sabolax Fai sbandare almeno due avversari Già questo è più facile Questo è Sandstone Va bene Andiamo, andiamo Eccoci al Sandstone Partiamo subito Senza neanche guardare l'assetto Ok che qua dobbiamo far ribaltare No, ribaltare Dobbiamo speronare Almeno due avversari Iniziamo, va Oppela Però poi abbiamo fatto una cagata Eeeh Due Ok, adesso stiamo tranquilli Scusi Da qua dove si va? Aio Altro speronamento Ma questo non serviva In realtà Ma va bene Tra l'altro ragazzi Ho notato Che nelle gare Dove non ci dà lui O meglio dove ci dà il gioco La macchina Dove non usiamo l'auto propria Non ci dà i soldi Quindi quelle gare Che avevamo fatto Con Il veicolo a tre ruote Che non mi ricordo Come si chiama Il super van Non ce li ha pagate Che cagata Occhio Guarda quello Come cazzo va? Scusi Si vede un cazzo Con Sta macchina È troppo alta Ok Già va meglio Dai che lo stiamo rimontando Dai in velocità Pura Siamo forti Siamo forti Siamo molto forti Aio E niente Poi Ci siamo ribaltati male Ah ma qua si incrocia La pista Attenzione Che mi sa che Il tipo qua È andato a sbattere Iron Bender Con la Star Beast Iron Bender Aio Lungo Liscio Occhio Scusi Poi vi pago la staccionata Mi scusi Guarda Guarda questo Che prova a spingerci Oppela Prendilo Questo Non c'ha un cazzo Di danno O meglio Si si è fatto qualcosa Ma Eh che palle Scusi Ma Vado a sbattere anche lei Ogni tanto Eh Guarda come spinge E mi ha distrutto E mi ha distrutto la parte davanti Guarda questo Va Te n'affanculo Va Ciao Vabbè L'avevo messo in conto Che questo si sarebbe rifatto Sotto E so due Scusi Non avevo bisogno di una ribattuta Oddio Madonna Oh pera dai Andiamo puliti Mamma mia Che rischio lì Lì era finita la gara Eh Perché Se ci prendevano Se ci avessero presso In questo giro Tra l'altro possiamo aumentare Il cambio Eh In questo circuito Va un cambio Un po' più lungo Dai Dai E abbiamo Abbiamo vinto Abbiamo vinto Grande così Anche questa seconda gara È fatta Passiamo alla prossima 1260 Crediti Che male non fanno E andiamo alla prossima gara Che sarà Ah Vediamo un po' Spero che Scusi Scusi Lei doveva Ma cosa fa Ma ha preso la scavatrice Oh pera Questo circuito Questo circuito Questo circuito diverso Di Sabolax Dovrebbe essere Il circuito lungo Teniamo il cordolo Curva Curva 90 gradi Il cordolo Occhio Occhio Metti la terza Vai così In amicizia Secondo giro Andato Un giro Un giro Un giro su due Fatto In testa Attenzione Rischi C'è una ruota Di scorta Nel bagagliaio Che non avevo ordinato Attenzione Il tipo qua Non molla E' anche vero Che Non conoscendo il circuito Sto andando Un po' A tentoni Occhio Alla curva 90 gradi Gomme Fortunatamente In prossimità Delle curve strette Si allarga parecchio La pista Oppela Si vola Stiamo interni Ci buttiamo Dall'altra parte Adesso Ultimo giro Che inizia In questo momento Quanto vorrei far cadere Sto pontile Qua Mamma mia Attenzione Attenzione Oppela Tiralo Tiralo Oh Mamma mia Mamma mia Guarda i segni di ruote A terra L'ho parlato L'ho parlato L'ho parlato come un russo Guarda i segni di ruote A terra Pochi spintoni In questa gara In questa gara Poco ignoranza Vabbè Fa niente Occhio Tira E andiamo a vincere Anche la terza Vai così E la terza o la quarta No la terza Bene bene Abbiamo fatto segnare Anche il miglior giro E andiamo all'ultima gara Che sarà A Vediamo l'obiettivo Se riusciamo a farlo Sempre Boulder Bank Circuit Terminato La fortileggiante Di questo campionato Partiamo subito Non ci perdiamo in chiacchiere Spintoniamo Spintona Dobbiamo finire in più Una posizione qua Non è importante Quanti giri facciamo in testa Attenzione Spintoni Macello Sei macchina in fila Scusi Madonna Madonna Questi spinto Che fa? Spinto Ma guarda questi Subriaconi Eh vabbè niente Sono andati in tutte e due In testa coda E non è andato su un albero Damo se Cerchiamo di Prendere margine Anche se difficile Abbiamo il cambio corto Di nuovo Guarda si sassi In mezzo alla strada Opera Non perfetta Sta curva a gomito Ma va bene Altra curva a gomito Già è andata meglio questa Però gli altri Recuperano tanto Nelle curve Assetto non perfetto Va bene Dai Pazza se è dura Sto giro Occhio Tutta ghiaia Sto pista Primo giro è andato Eh gli altri stanno rimontando Eravano a due secondi E sei di vantaggio Adesso siamo a due secondi E uno Adesso uno e uno Addirittura Ma qua ci incrociamo Oddio Sta arrivando uno Veloce E niente Anche gli altri Sono passati indenni Opela Abbiamo toccato col fondo Per terra Ma non fa niente La nostra auto E sportiveggiante Tipo Red Bull È fatta apposta Per essere più bassa possibile Abbiamo guadagnato di nuovo Qualcosina Siamo a tre secondi e mezzo Quattro secondi adesso Attenzione È un po' lungo Eh qua abbiamo perso Abbiamo perso tanto Tre secondi e mezzo Due secondi abbiamo perso Vabbè Ci sta Ci sta ogni tanto Ultimo giro Che inizia in questo momento Miglior giro Suppongo Sì Occhio qua Che si incrocia No 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 Attenzione Troppo di traverso Mannaggia Attenzione Arrivano Ecco Sapevo io Madonna È andata peggio A quello No no Dai raga Non voglio ripeterla gara Non voglio assolutamente Ripeterla Lo sceriffo in prima posizione Lo sceriffo in prima posizione Dai 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 Che riusciamo ancora a prenderlo Possiamo No 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 Non ci credo Raga Non ci voglio Credere proprio E E BAM E niente Comunque l'abbiamo persa No Attenzione Colpo di scena Incredibile Vinto 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 Con una mossa Molto abusiva Abbiamo buttato fuori Lo sceriffo Va bene Abbiamo vinto Abbiamo vinto Quello che conta Va bene ragazzi Noi per questo episodio Ci lasciamo qui Ci vediamo Nel prossimo episodio Con altre gare E spintoni Sportiveggianti Un bacione Ciao a tutti Ciao a tutti